ciao buongiorno a tutti oggi impariamo a fare delle palline che vanno bene anche per giocare poi in spiaggia perché sono completamente impermeabili solamente con del riso dei palloncini e un sacchetto da da freezer e poi ci servono le forbici allora per prima cosa versiamo un po di riso nel sacchetto da freezer la quantità dipende dalla grandezza della pallina che vogliamo realizzare io ne ho messo un pochettino e poi facciamo in modo che sia tutto ben sceso ecco e in questo modo poi andiamo a raggrupparlo nel sacchettino e giriamo in questo modo in alto qui dalla parte dove è chiuso facciamo un piccolo forellino per far uscire l'aria e mettiamo sotto in questo modo poi prendiamo un palloncino e lo tagliamo togliendo la parte stretta in questo modo lo allarghiamo e lo infiliamo sopra alla nostra pallina di riso sistemiamo bene dentro tutto il sacchettino tutta l'eccedenza in questo modo poi la possiamo ecco e poi facciamo lo stesso procedimento con l'altro palloncino tagliamo la parte più stretta e giriamo il nostro la nostra pallina con questa parte in alto quella forata in alto allarghiamo il secondo palloncino e lo andiamo a mettere sopra allargandolo bene in questo modo poi modelliamo bene la nostra la nostra pallina ed è pronta vanno bene per giocare in tutti i modi sia solo con la pallina si può tirare anche contro il muro sia anche con i racchettoni basta fare la pallina della misura giusta ciao alla prossima